Grazie, buongiorno a tutti, sono Sandro Saggin di Marchennovi e sono qui oggi per approfondire e raccontarvi la nostra ultima lente nata che si chiama Jade. Lente nata da una precedente già esperienza nostra con BlueGen che fu l'anno scorso la prima lente al mondo in silicone idrogel che combina un filtro UV di classe 1 a un filtro selettivo per la luce blu. Prima di presentare la lente giusto due parole su chi è Marchennovi a beneficio anche di ancora chi non ci conosce. Marchennovi è un'azienda che è nata nel 1997 per cui abbiamo proprio ultimamente festeggiato i nostri vent'anni. Piano piano è diventata l'attore protagonista diciamo nel mondo delle lenti a contatto personalizzate a livello europeo. In questa slide potete vedere un po' i passaggi che ci sono stati nella nostra espansione sia dal punto di vista dei mercati e sia dal punto di vista del lancio dei prodotti. Ma quello che conta è quello che siamo oggi. Oggi Marchennovi conta su cinque filiali nei maggiori paesi europei tra cui ovviamente l'Italia. Contiamo su due unità produttive, una unità produttiva Madrid che produce lenti a contatto tornite personalizzate con un processo di tornitura di microprecisione robotizzato e una capacità produttiva di 5.000 lenti al giorno che diciamo in questo mondo di lenti tornite è un numero piuttosto alto. Abbiamo poi uno stabilimento a Romsey che produce invece lenti a contatto stampate e fa parte anche di Marchennovi VistaOptics che è un'azienda invece che si occupa di ricerca e sviluppo di materiali, produce bottoni per lenti gas premiabili e bottoni per lenti IOL. Infatti tutte le nostre lenti a contatto diciamo sono prodotte con materiali di nostra proprietà e ideazione. Questo penso che sia molto importante perché ci permette di controllare il processo produttivo dall'inizio fino alla parte finale. Il nostro intento qual è? Il nostro intento è quello di fornirvi sempre dei prodotti all'avanguardia che vi aiutino a migliorare la qualità visiva dei vostri portatori di lenti a contatto e ovviamente di migliorare anche la qualità della vita dei vostri portatori perché grazie a un beneficio visivo. Noi siamo fermamente convinti che non sia l'occhio del portatore che deve adattarsi alla lente a contatto ma che sia la lente a contatto che deve adattarsi al portatore. Dobbiamo noi trovare la giusta lente a contatto che soddisfi le esigenze del nostro portatore e credo che sia anche doveroso per noi come azienda fornire a voi gli strumenti per ottenere questo per cui fornirvi tutta quella serie diciamo di lenti a contatto che vi consentano di perseguire questo obiettivo se credete ovviamente in questo obiettivo. Dal punto di vista della gamma dei prodotti Marchennovi ha una gamma diciamo direi impareggiabile. Abbiamo materiali sia in hidrogel che in silicone e hidrogel. Giusto per darvi un'idea diciamo del come e del dove ci spingiamo le nostre lenti vengono prodotte con poteri che vanno da più 30 a meno 30 in 0,25 i cilindri arrivano fino a 8 di otrie in 0,25 gli assi dell'astimatismo vanno di un grado in un grado produciamo geometrie sferiche, toriche, multifocali e multifocali toriche e vi mettiamo a disposizione 11 diametri e 12 raggi in modo da veramente virtualmente consentirvi di gestire qualsiasi tipo di applicazione di lenti a contatto. I prodotti sono molto importanti ma anche il servizio è molto importante abbiamo un customer care, un servizio clienti che è formato da 30 autometristi esperti in contattologia che sono in grado di supportarvi diciamo in tutti i passaggi che vi possono consentire di raggiungere l'applicazione perfetta per cui dalla scelta della lente fino all'applicazione finale. In questa fotografia vedete diciamo i due autometristi che si occupano dell'Italia e che supportano quotidianamente i nostri clienti. Veniamo alla lente. La lente si chiama Jade ed è una lente come dicevo prima che nasce dall'esperienza di BlueGen e sostanzialmente abbiamo deciso di rendere più fruibile o fruibile a un maggior numero di portatori di lenti a contatto questa tecnologia che combina il filtro V1 al filtro selettivo per la luce blu. Più fruibile in che senso? Nel senso che questa lente a contatto invece è una lente disposable mensile con ovviamente un impatto di prezzo al pubblico molto più vicino a quello che sono le lenti a contatto mensili diciamo disposable. Per parlare di questa lente dobbiamo ovviamente parlare un attimo anche di quella che è la luce ringraziando sempre Fraunhofer che nel 1820 inventò lo spettro scopio conosciamo molto bene quali sono meglio diciamo quali sono proprio le lunghezze d'onda gli UVC sappiamo che vengono filtrati completamente dalla bloccati completamente dall'atmosfera gli UVB che vanno da 280 a 315 nanometri sostanzialmente è solo un 10% ci raggiunge quello che ci raggiunge maggiormente sono gli UVA e la luce blu violetta luce blu violetta dai 381 ai 450 nanometri ma qual è il livello di conoscenza dei nostri clienti delle persone sugli effetti della luce ma da un certo punto di vista e per certi aspetti il rischio della radiazione UV è molto conosciuto però più per quel che riguarda la pelle i capelli si investono e si spendono anche molti soldi pensate alle creme solari protezione 50 c'è tutto un mercato che va a diciamo a servire le persone perché le persone sanno che i raggi UV creano sicuramente dei problemi alla pelle questa è una fotografia diciamo che racconta proprio di questi problemi questo era un autotrasportatore che per 20 anni ha guidato col finestrino abbassato e come potete vedere le due parti del viso sono completamente diversi e qui vediamo realmente quelli che sono gli effetti delle radiazioni mentre quando si parla di occhi solo il 7% della popolazione sa che c'è un rischio per gli occhi pensate è paradossale questa cosa magari anche noi dobbiamo migliorare nella comunicazione e far presente questo aspetto perché sicuramente è un aspetto che noi conosciamo molto bene sappiamo molto bene quali sono diciamo le patologie legate ai raggi ultravioletti per esempio e sono patologie legate anche, sono cumulative, cioè sono legate alla quantità e alla continuità di esposizione l'opterigio, la pinguecola, la fotoceratite, la catarata corticale per esempio e anche la degenerazione maculare il livello di luce dannosa dipende anche da aspetti ambientali la posizione del sole, l'altitudine ogni 300 metri di altitudine c'è un 4% in più di raggi ultravioletti dipende anche dalla dose giornaliera una persona che lavora in ufficio ha il 10-20% in meno rispetto a una persona che lavora nell'ambiente esterno l'ombra stessa riduce gli UV del 50% ma sicuramente anche l'incidenza dei raggi perché ovviamente più la luce mi arriva direttamente più la quantità di energia che mi entra all'interno dell'occhio è maggiore per cui sono diciamo tutta una serie di aspetti che sono legati all'ambiente e sicuramente all'ambiente ma anche alle abitudini perché se noi guardiamo questa slide alla vostra sinistra diciamo che potrebbe essere un po' i nonni della mia generazione diciamo usavano tutti il cappello questa era una giornata all'aria aperta ma guardate praticamente erano tutti all'aperto il mondo è cambiato le tecnologie sono andate avanti però guardate invece alla vostra destra sempre in una giornata di sole quasi nessuno ha il cappello e paradossalmente quasi nessuno ha l'occhiale da sole eppure i nostri nonni il buco dello zono non ce l'avevano ce l'abbiamo noi il buco dello zono per cui sicuramente anche le abitudini possono diciamo passate alle volte possono darci insegnamento per il presente se andiamo ancora un po' più indietro negli anni usavano addirittura l'ombrellino per proteggersi dal sole la tecnologia ha cambiato il mondo ma ha cambiato anche il nostro modo di consumare la luce siamo passati dalla candela e siamo arrivati a led e tra l'altro l'abbiamo a disposizione con un click ci basta accendere un interruttore pensate che una ricerca della IMS Research stima che nel 2020 il 70% dell'illuminazione nel nostro abitazione e in nostri ambienti di lavoro sarà led è normale ovviamente perché i led hanno anche un consumo minore per cui quando ci si rompe la lampadina sicuramente la sostituiamo con una lente led è chiaro che però questi led per esempio emettono una certa parte di luce blu perché siamo intorno al 35% con picchi a 440 nanometri in questa slide potete vedere anche i diversi tipi di illuminazione con diciamo le percentuali di emissione però non dimentichiamoci del sole il sole emette dal 25 al 30% anche di luce blu oltre ai raggi UV emette il 30% di luce blu e le nostre giornate spesso per chi lavora fuori sono molto esposte al sole per cui abbiamo una certa parte di luce blu che viene a interessare il nostro sistema visivo per quel che riguarda gli UV e anche la luce blu fortunatamente il nostro organismo sviluppa una protezione però questa protezione inizia dalla nascita ma si sviluppa totalmente intorno ai 25 anni per cui sicuramente i soggetti più giovani sono quelli più esposti al rischio delle radiozioni UV e anche della luce blu allora qui in questa sede non voglio parlare dei legami diciamo legati ai rischi dal punto di vista delle patologie della luce blu per cui alla maculopatia legata all'età e alla luce blu perché non ci sono ancora delle evidenze scientifiche che dimostrano questo io vorrei però portare la vostra attenzione su un aspetto più legato all'ottica fisica e alla qualità della visione e che è un aspetto più legato anche al nostro mestiere perché noi di questo ci occupiamo la luce blu ha una lunghezza d'onda più corta un'energia più alta e più è corta la lunghezza d'onda più aumenta lo scattering intraoculare o la diffondanza intraoculare per cui riducendo una parte di questa componente della luce si può ridurre lo scattering intraoculare offrendo probabilmente una percezione a contrasto migliore un miglioramento della qualità della visione lo scattering è anche legato però ai mezzi ottici qui possiamo vedere il cristallino e l'opacizzazione del cristallino nel passare degli anni vedete come man mano diciamo che passano gli anni c'è un'opacizzazione certo questo sicuramente ci aiuta come protezione UV perché ovviamente fa da filtro però intanto assorbe anche le radiazioni però dal punto di vista della luce blu il cristallino di un soggetto in età un po' più avanzata ha un maggiore scattering per cui riducendoli questa parte di luce blu riduco lo scattering oltre al fatto che la luce blu è quella che crea l'aberrazione cromatica maggiore è stato anche condotto uno studio clinico su alcuni soggetti ed era stato proprio esaminato la differenza tra soggetti che portavano lenti a filtro blu e non la portavano ed erano soggetti con instabilità del fin lacrimale sostanzialmente in questi soggetti utilizzare lenti a contatto con il filtro blu ha dimostrato che la qualità della visione era migliorata ed era più stabile non tutta la luce blu comunque è dannosa c'è una parte della luce blu una componente della luce blu che è la parte della luce blu turchese che è molto importante per il nostro organismo perché regola il ciclo circadiano per cui ci aiuta diciamo per esempio anche nella fase del sonno per cui la luce blu crea degli effetti spiacevoli ma è anche molto una parte di essa è molto importante per la nostra vita, per il nostro organismo vengo velocemente alla presentazione della lente la lente si chiama Jade è una nuova lente che si aggiunge al nostro portafoglio è un hydrogel mensile disposable con poteri che vanno da più 8 a meno 10 in materiale hydrogel con il filtro V come dicevo prima e questo selettivo blue blocking filter per cui il filtro per la luce blu ha un'ottica sferica calcolata in modo tale da compensare l'aberrazione stessa che la lente induce di conseguenza è meno influenzata dal diametro pupillare dal punto di vista diciamo del potere della zona ottica in tutta la sua dimensione e qui vediamo appunto il filtro beh è un classe 1 per cui filtra da 280 a 315 nanometri e il blu violetto lo filtra dalla 380 a 450 con una percentuale in assorbimento del 14% per il blu violetto e solo dell'8% per la luce blu turchese per i motivi che prima ho citato e per l'importanza che ha questo tipo di luce ecco qui possiamo vedere diciamo la lente a contatto confrontata con un'altra lente a contatto è illuminata da una sorgente che va dai 353 ai 363 nanometri per cui si evidenzia un blocco sostanzialmente totale questo filtro selettivo per la luce blu è stato anche oggetto di una tesi di laurea o meglio diciamo un test che è stato fatto è stato oggetto di una tesi di laurea dell'optometrista Arcangeletti dell'Università Roma 3 la quale ha selezionato 22 soggetti e ha applicato la lente a contatto con filtro selettivo per la luce blu il metodo era questo erano diciamo soggetti in età da 18 a 40 anni emetropi, miopi, ipermetropi buona salute oculare senza alterazione del contrasto cromatico e tutti i videoterminalisti inteso per videoterminalisti persone che utilizzano i videoterminali per più di 20 ore alla settimana con un astigmatismo compreso compreso entro lo 0,75 di otrie e nuovi a qualunque tecnologia che filtrasse blu per cui non avevano nemmeno mai utilizzato occhiali a filtro blu o a riflessione questi sono stati i risultati li riassumo brevemente ecco per esempio questi sono in termini percentuali il 14% in blu vediamo diciamo la correzione attuale che portavano e in azzurro il risultato con le lenti a contatto il 14% aveva con la correzione abituale un affaticamento visivo e lo 0% delle persone che hanno provato le lenti non ha avuto affaticamento per cui diciamo possiamo dire che il filtro ha ridotto l'affaticamento visivo arrossamento visivo è passato da 23 al 9% la fotofobia dal 9 al 5% la lacrimazione dal 9 al 5% il bruciore oculare è rimasto uguale però qui in realtà diciamo il fitting era stato fatto senza tenere proprio in considerazione gli aspetti legati a quelli che sono i parametri della cornea la lente da applicare era quella per cui è stata diciamo applicata a tutti mosche volanti sono ridotte e anche il mal di testa per cui come dire mi sento di dire dopo aver visto questo risultato che il filtro blu per certi aspetti diciamo può aiutarci a ridurre diciamo certe problematiche qual è il target di questa lente beh sicuramente i giovani i giovani che sono tutto il giorno con questi apparecchi digitali e per i motivi che dicevamo prima prego si finisco e per i motivi che dicevo prima anche per l'aspetto legato alla trasferenza dei mezzi ottici che ovviamente fanno arrivare i raggi UV maggiormente in retina ma anche le persone sopra i 30 anni perché come dicevo prima la diffondanza o lo scattering aumenta anche in funzione proprio dell'età per cui possiamo dare una mano per questo e anche per ridurre l'accumulo di radiazione UV a livello per esempio del cristallino concludo facendo un piccolo riassunto sono poche oggi come oggi le persone a conoscenza degli effetti della luce sui propri occhi proteggersi dagli UV può ridurre i rischi di patologie oculari i giovani sono maggiormente esposti e filtrando la luce blu si riduce anche quella che è la diffondanza intraoculare e JED appunto è una lente che cerca di dare una risposta diciamo a questo tipo di problematiche io concludo vi ringrazio e se volete maggiori informazioni vi aspetto con i miei colleghi allo stand grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti